Siamo con Giancarlo Carniani, coordinatore della BTO 2010, siamo partiti, siamo ormai verso la fine della prima giornata di BTO, che impressione ha avuto da questa partenza? Una partenza come sempre positiva, per il terzo anno consecutivo abbiamo fatto il sold out della stazione Leopolda, quest'anno abbiamo ridisegnato un po' anche gli spazi per essere un po' più larghi, i numeri sono sempre gli stessi perché la capacità qui è quella, ma insomma ci muoviamo meglio. Per quanto riguarda i contenuti è stata una giornata molto molto ricca, oggi era densa di ospiti internazionali, abbiamo affrontato argomenti come l'impatto dei social media sul revenue management, abbiamo avuto una bellissima apertura fatta da Monica Fabris, che ho sentito è stata molto apprezzata, sulla parte sociologica del viaggio, abbiamo un po' staccato da dare soltanto numeri, 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 daremo un po' anche quelli, ma ci interessava un po' capire anche come si evolve il viaggio dal 2010 in poi. Nel pomeriggio stiamo adesso parlando di altri due argomenti molto caldi e lo sono sempre stati, cioè il mobile che di anno in anno ha dei numeri impressionanti ed è l'unica cosa in cui noi italiani siamo maestri e primi assoluti in Europa e in chiusura di giornata prima di premiare Firenze che ha vinto un prestigioso premio di TripAdvisor come miglior destinazione culturale del mondo, parleremo invece di Reputation che è un altro delle cose che interessa molto la comunità di BTO. L'impressione è che quest'anno sia una BTO più tecnica, che cerca più di dare consigli anche operativi e pratici agli operatori del settore? Ci siamo mossi su il questionario di soddisfazione dello scorso anno e abbiamo visto che cosa volevano le persone che partecipavano alla BTO, per questo motivo abbiamo tolto il momento del workshop che non era più indicato come un momento importante, mentre abbiamo aumentato anche con delle training rooms un po' più grandi e l'aspetto formativo e informativo era quello che le persone si aspettano da questa manifestazione, che non è una fiera, non lo sarà mai, lo diciamo tutti gli anni, ma è un evento dedicato ad informare sui cambiamenti e di anno in anno il mondo internet ci offre, che sono sempre fortuna per noi, tantissimi, quindi abbiamo sempre moltissimi spunti per continuare a lavorare. Cosa puoi segnalare per domani? Cos'è che possiamo segnalare in maniera più forte o come più significativa tra gli appuntamenti programmi, che sono tanti? Domani ci sono perlomeno tre cose da non perdere assolutamente, una è questa ricerca fatta da un gruppo di blogger di WTM Magazine, tra l'altro un gruppo di blogger che è nato in BTO, si sono conosciuti in BTO e hanno fatto una ricerca bellissima, si chiama dal viaggio low cost al viaggio no cost e affronta tutte le nuove metodologie di viaggio, scambi di case, couch surfing, che in realtà poi impattano anche il business del viaggio tradizionale ed è una ricerca molto particolare. Poi ci sarà una ricerca dissacrante perché abbiamo fatto analizzare dai creativi il marketing territoriale delle varie regioni italiane, si chiama il cecchino miope, il panel e anche quello è molto atteso. E poi parleremo anche in un panel centrale di ciò che succede nella ricerca, perché ci sono nella ricerca online, quindi nei motori di ricerca, perché è stato un anno oggettivamente di grandi cambiamenti, specialmente l'acquisizione di ITA software da parte di Google, sta facendo chiacchierare molto dalla rete perché non si capisce se arriverà un Google Travel, come molti si aspettano e chiederemo a Google se sa qualcosa di questo, seppure ancora le notizie sono riservate.